Devi scegliere una carta Ok, ce l'hai? Mostra la telecamera Perfetto, la devi praticamente metterla dentro dove vuoi Io adesso soltanto utilizzando una mano andrò a prendere la tua carta Ok? Difficile che hai preso Facile Questa? No Sicuro? Sicuro Allora la tua carta mi sa che era tipo questa Cos'è? Si Buono Buono